Sarebbero al momento gravi le condizioni del 49enne investito nelle scorse ore lungo la strada provinciale che collega Oruri Collarino. I carabinieri sono alla ricerca dell'automobilista responsabile. Il comitato Io non pago è stato ricevuto dalla prefettura di Serni al fine di trovare soluzioni contro il caro Bollette. La crisi energetica non può ricadere sulle tasche dei cittadini. Annullo filatelico questa mattina la sede della Molisana di un francobollo dedicato ai 110 anni della storia dell'azienda pastaia della regione. Ancora un'estensione per la raccolta differenziata a Campobasso. Si aggiunge anche la zona di Via D'Amato e delle strade di Mitrofe in prossimità del centro cittadino. Ben ritrovati a tutti con l'informazione del giorno del telegiornale di TLT ed è stato trasferito dal Santimotio di Termoli all'ospedale di San Giovanni Rotondo il 49enne che nella notte tra lunedì e martedì è stato investito da una vettura lungo la provinciale che collega Ururi con Larino mentre si trovava fermo sul ciglio della strada. Sull'episodio indagano adesso i carabinieri del nucleo della compagnia di Larino che questa mattina hanno effettuato anche un sopralluogo sulla provinciale dove è avvenuto l'incidente. I militari dell'arma sarebbero sulle tracce della vettura e del suo conducente ma sono in corso opportune verifiche sulla dinamica del sinistro. Il comitato Io non pago è stato ricevuto dalla prefettura di Isernia per cercare di trovare soluzioni per abbattere il caro bollette. I cittadini chiedono l'abbattimento dei costi e azioni da parte del governo nazionale. Ma vediamo. Si è conclusa la manifestazione di protesta davanti alla prefettura di Isernia per dire basta al caro bollette. Il comitato Io non pago predisposto da Emilio Izzo ha chiesto aiuti al prefetto al fine di cercare di sostenere i cittadini in questo periodo di profonda crisi energetica. La dottoressa Gabriella Faramondi ha raccolto le istanze condividendo le preoccupazioni garantendo una relazione che invierà a tutte le autorità preposte all'ascolto e alla risoluzione del problema. Come abbiamo detto ampiamente sono problemi creati dagli stati e quindi noi restituiamo al mittente il problema. È chiaro, l'hanno detto anche i ministri, che quello che è successo gli è scappato dal controllo e allora qualcuno deve riprendersi questo controllo, non può essere il cittadino che si vede arrivare delle bollette veramente da esaurimento risolte. Quindi noi restituiamo al mittente il problema. Il riscontro della cittadinanza è esattamente come le istituzioni, un po' vigliacchetti, si chiudono eccetera eccetera e poi mandano avanti i cretini come me. Ma non è un problema. Mi sono sempre fatto carico non dei problemi degli altri, delle mie idealità. E quando credo che l'idealità corrisponde a un fatto di giustizia e questo lo è, io vado avanti a prescindere. Ma mi pare che la risposta di qualche coraggioso c'è e poi vorrei capire di quale paura. C'è e non finisce qui perché ovviamente stiamo preparando anche la serrata dei negozianti per un giorno che dobbiamo ancora decidere, quindi mi pare che va tutto avanti. Ma vorrei anche ricordare a chi ci ascolta, comprese le istituzioni, che proprio per queste iniziative in tutta Italia, dove sono ben più forti di quelle che facciamo qui, si è dovuto riunire la Commissione Europea e stabilire dei tetti e dopo un'ora da questo si è abbattuto del 10% il costo del gas. Un motivo ci sarà. Allora vuol dire che c'è qualche cosa a mondo che è sfuggito. Gli oneri sulle bollette, al di là del costo del gas, che sono tre volte di più del costo stesso del gas, chi li controlla se non lo Stato, se non hanno i controllori oppure ce l'hanno e non controllano, chi ci mangia dietro a tutte queste accise che ci sono e tutti questi oneri? Io non lo so, immagino che qualcuno ci mangi. Allora, al di là di quello che vorrà fare la Russia con il gas, sicuramente noi rispetto alle bollette possiamo abbattere una serie di cose. Ecco perché la lotta non si può fermare. Ma certamente i cittadini devono essere convinti di essere nel giusto. Lo sanno che sono nel giusto, ma sono timorosi. Ma perché sono timorosi? Perché la risposta dell'istituzione è quella di negare anche quello che la Costituzione garantisce. La Guardia di Finanza di Teramo ha eseguito due misure di arresti domiciliari nei confronti di un noto commercialista teramano unitamente ad un conciunto residente all'estero per aver attenuto nell'ambito delle procedure a lui affidate in qualità di curatore fallimentare e commissario giudiziale in un indebito arricchimento per quasi 1,5 milioni di euro. In particolare, il professionista, valendosi di società costituite ad hoc ubicate in Italia e all'estero, riconducibili a lui e al figlio, avrebbe acquistato nell'ambito delle predette procedure fallimentari, crediti deteriorati. L'assessorato regionale all'agricoltura domani ospita il secondo incontro sulla biodiversità, un'iniziativa organizzata dall'Associazione degli ex consiglieri regionali del Molise. Gli ex consiglieri regionali, attraverso la loro associazione, hanno puntato sulle opportunità di sviluppo date dal valore sociale ed economico delle risorse di cui il Molise è ricco, un percorso di rilancio che è dato dalla biodiversità e che è al centro del secondo incontro da loro organizzato e che si terrà a Campobasso nel pomeriggio di domani presso la sede dell'assessorato all'agricoltura. Quello che è importante è fare della biodiversità un quadro completo e proprio organico in sé, come organico il territorio, è fatto di campagne, è fatto di boschi, è fatto di fiumi, è fatto di tutti gli elementi fisici che poi nell'insieme formano un quadro che è un quadro bello. Che bellezza, che bel paesaggio diciamo alla fine. Così dobbiamo saper fare con la biodiversità. Io devo dire che questo è il secondo incontro in questo anno. C'è stato un altro proprio il 16 di febbraio di questo stesso anno, del 2022, e anche quello è stato un incontro fortunato perché dopo appena sei giorni il Consiglio regionale ha discusso il problema che teniva ovviamente da tempo forse in esame e per cui il 22 di febbraio il Consiglio regionale, quasi alla unanimità, ha licenziato il progetto di legge, che è diventata legge, la numero uno. Speriamo che veramente questo significhi qualcosa, che cioè il Molise possa puntare proprio in maniera preponderante sulla biodiversità come suo sviluppo regionale. E quale via migliore per un momento di crisi come questo? Secondo me è importante che dopo questa legge si passi subito al regolamento, si passi subito al piano di attuazione. Non si ferma la battaglia della Casa dei Diritti contro il piano operativo sanitario 2022-2024. È prevista pertanto una conferenza stampa che si terrà nella mattinata di domani alle 10 nella sede di via Mario Pagano a Termoli. Sotto la lente è la situazione riguardante il punto nascita del Santimotio e il servizio di emodinamica nel reparto di cardiologia del medesimo presidio ospedaliero. E parliamo adesso dell'annullo filatelico. Questa mattina la sede della Molisana, un francobollo dedicato ai 110 anni di storia dell'azienda Pastaia della Regione. Siamo andati a vedere. Festeggia i suoi 110 anni di attività l'industria pastaia alla Molisana e lo fa insieme a poste italiane con un annullo filatelico di un francobollo ad essa dedicata. L'iniziativa nella sua sede storica a Campobasso. Oggi celebriamo appunto i 110 anni di storia e la nostra è una storia come spesso accade in Italia, al sud, una storia di grande tenacia, di scelte coraggiose, di vicissitudini e di cadute anche importanti che ci hanno riguardato lungo tutto il secolo. E oggi celebrarla simbolicamente con un francobollo che è dedicato proprio all'eccellenza del sistema produttivo ed economico italiano e a questo annullo filatelico è per noi insomma grande orgoglio. Diamo grande importanza alla storia perché noi diciamo essere stati è una condizione per essere e la storia ci insegna, ci dà delle indicazioni, dei moniti e nello stesso tempo ci tramanda grandi competenze che se noi sappiamo in qualche modo valorizzare, acquisire, ci consentono non solo di vivere il presente ma anche di pensare alla pianificazione futura. Oggi Poste Italiani comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico emette un francobollo dedicato all'eccellenza del sistema produttivo italiano, quindi emette un francobollo per i 110 anni della Molisana e siamo qui con l'annullo primo giorno di emissioni, quindi siamo a casa di questo importante pastificio con un francobollo e il Mise ha stampato insieme all'Istituto Poligrafico Azzeca dello Stato 300.015 esemplari di questo francobollo e Poste Italiani commercializza da oggi il francobollo unitamente ai prodotti filatelici che abbiamo realizzato come il folder che è questa cartella a quattro contenente la quartina dei francobolli, il francobollo singolo, la busta primo giorno e la cartolina, anche il folder è in tiratura limitata. Al Neuromed un brevetto innovativo per studiare i movimenti degli animali, si tratta di un supporto allo studio nel campo delle malattie neurologiche, una parte fondamentale della ricerca nel campo di tali malattie è costituita dallo studio di come gli animali da laboratorio si muovono e come il loro movimento venga alterato quando sono affetti da patologie che rappresentano un modello di quelle umane. Ancora un'estensione per la raccolta differenziata a Campobasso, si aggiunge anche la zona di via D'Amato e delle strade limitrofe della zona di prossimità del centro cittadino. L'assessore all'ambiente del comune di Campobasso, Simone Cretella, dalla zona di via D'Amato, prossima al centro cittadino, annuncia l'estensione della raccolta differenziata. Una nuova fase operativa che avvicina la completa chiusura delle fasi organizzative e l'operatività del servizio nella quasi totalità della città. Con oggi, come promesso, il terzo e ultimo step estivo, con oggi andiamo a chiudere l'ennesima zona togliendo i cassonetti, finalmente, e partendo quindi con la raccolta differenziata porta a porta di prossimità sotto i condomini, sotto le palazzine. Con questo possiamo dire che tutta la città di Campobasso è finalmente servita dal servizio di raccolta differenziata. Resta la parte murattiana, la parte proprio di pienissimo centro, quindi da via Mazzini fino alla zona murattiana, che provvisoriamente conserva ancora i cassonetti nelle more delle operazioni di gara, di acquisizione e di installazione dell'ecostazione che quindi entro fine anno, l'inizio anno, andremo ad installare, così avremo un servizio ancora più efficiente. La raccolta differenziata non la fa l'amministrazione, la fanno i cittadini. Noi cerchiamo di offrire il miglior servizio possibile, che è sempre migliorabile, sempre perfettibile sicuramente, però c'è bisogno assolutamente della collaborazione di tutti i cittadini. Questa mattina, purtroppo, nella zona di via Di Berio, via Zuccarelli, quella zona, abbiamo visto degli accumuli di rifiuti. Da un lato è fisiologico quando parte questo tipo di servizio i primi giorni avere qualche difficoltà, però è evidente che un cittadino che lascia il sacchetto gettato a terra è mal predisposto. Diciamo, questo noi speriamo che duri solo qualche giorno, dopodiché tutti quanti prendano coscienza di questo nuovo servizio che sicuramente è efficiente, sicuramente è obbligatorio, quindi non è un'opzione, ma è qualcosa che dobbiamo fare tutti e questo ne giova al decoro della città, all'ordine, alla pulizia della città e anche dei risvolti ambientali importanti, perché poi quello che succede in discarica forse non è sotto gli occhi di tutti, ma è importante sapere che oggi tutti abbiamo l'obbligo di diminuire l'impatto ambientale e quindi la quantità di rifiuti che andiamo a sversare sotto terra, in sostanza. Oggi alle 16, alla parrocchia Il Sacro Cuore di Termoli, la presentazione del libro di Giovanna Testa dal titolo La Galassia del Lavoro Sociale, formare oggi gli assistenti sociali del domani. Il testo risponde allo sforzo di andare al cuore dei temi riguardanti il lavoro di assistenti sociali e operatori del sociale, che oggi vanno esaminati alla luce degli sconvolgimenti in atto a livello mondiale. I numeri dei reati contro le donne sono sempre molto elevati in Italia e nel mondo, dallo stalking al vero e proprio femminicidio, ma sentiamo in proposito queste dichiarazioni. La politica può fare e deve fare tanto? Secondo me la politica può fare e dovrebbe fare tanto. Il problema è che molte volte la situazione viene sottovalutata, viene sottovalutata dagli uomini non solo della politica e quindi c'è necessità di far conoscere l'esistenza di associazioni come i centri antiviolenza, come l'Associazione Libera Luna di Campobasso, per dare la possibilità a chi non ha voce di poter contattare chi può dare voce alle donne. Il problema c'è, che è un problema che esiste, che molte persone purtroppo tacciono perché la situazione è difficile, denunciare è difficile. Noi per questo motivo abbiamo pensato di dare un segno anche a Trivento. abbiamo pensato di inaugurare questa panchina rossa anche con il simbolo dell'uncinetto, perché quest'estate abbiamo realizzato una mostra dedicata alle donne e per questo abbiamo pensato di chiudere il ciclo estivo inaugurando anche una panchina rossa con opere fatte dalle donne, uncinettine di Trivento. Secondo lei un inasprimento delle pene potrebbe far diminuire questo tipo di reato? Il reato dovrebbe essere valutato con occhi diversi, a volte la lungaggine burocratica non consente di poter aiutare le donne, quindi molte donne spesso non denunciano perché pensano di non riuscire poi a raggiungere l'obiettivo finale se non il contrario e quindi ci vorrebbe sicuramente una velocità d'azione per questi reati che sono rivolti alle donne. La prevenzione oncologica dei tumori della sfera femminile Mammella e Cervice Uterina, l'appuntamento organizzato dalla Lilt per domani pomeriggio a Termoli al Cinema Sant'Antonio. La prevenzione inizia con la riduzione di fattori di rischio adottando sani stili di vita con regolare attività fisica ed una corretta alimentazione, ma anche individuando la malattia tempestivamente attraverso la diagnosi precoce. Preoccupante presenza di microplastiche negli alimenti, le ricerche dell'Università degli Studi del Molise per tutelare la salute dell'uomo e la qualità alimentare e ambientale. Mandiamo al contributo. Non solo nei pesci, le microplastiche sono state riscontrate anche in altri prodotti alimentari, tra cui birra, sale, miele e zucchero. L'attenzione degli scienziati è massima per scongiurare rischi per l'uomo. In tal senso, l'Università degli Studi del Molise, con i ricercatori del corso di laurea Scienze e Tecnologie Alimentari, sta portando avanti studi specifici con l'obiettivo anche di tutelare le produzioni tipiche locali. Ad oggi la presenza delle microplastiche negli alimenti è stata poco monitorata, scarse quindi le conoscenze sui potenziali effetti dannosi sull'uomo e sull'ambiente più in generale. Tra le fonti di esposizione, oltre l'inalazione e il contatto cutaneo, l'ingestione rappresenta la via principale di ingresso di tali contaminanti nel corpo umano. Tuttavia, gli organismi marini sono quelli maggiormente esposti alle microplastiche a causa del rilevante inquinamento. Il materiale viene ingerito attraverso la filtrazione o confuso per prede. Nei tessuti edibili di alcune specie di pesce, la concentrazione di microplastiche è addirittura risultata pari a 124 particelle per chilogrammo. Da un punto di vista tossicologico, le informazioni disponibili sono ancora controverse. Gli studi dei ricercatori Unimol su organismi marini vertebrati e invertebrati parlano di alterazioni di pathway metabolici, produzione di stress ossidativo e disturbo del metabolismo energetico. L'ipotesi è che tali effetti possano manifestarsi anche nell'uomo. Oggi pomeriggio al municipio di Termoli la premiazione del Fratino d'Oro per la tutela del paesaggio naturale sulla riserva adriatica, un premio istituito dall'Associazione Ambiente Basso Molise. Il Fratino d'Oro è diventato un riconoscimento di prestigio che attesta l'impegno di cittadini e organizzazioni in favore del patrimonio naturalistico molisano. La Federazione Pubblici Esercizi e l'Associazione Nazionale Magistrati presentano domani pomeriggio a Campobasso Bevi Responsabilmente il progetto che tocca le principali città della penisola per diffondere tra i giovani la cultura del divertimento sano e senza rischi per la salute e l'iniziativa all'obiettivo di creare una sinergia tra associazioni, istituzioni e imprese indispensabili per promuovere consapevolezza nei confronti dei clienti, gestori e dipendenti di bar e ristoranti. Lunedì 31 e martedì 1 novembre torna la 27esima edizione della mostra a mercato del tartufo bianco di San Pietro Avellana. Gli stand apriranno i battenti il 31 alle 11 in piazza Umberto I per accogliere i visitatori fino alle 21 tra profumi e degustazioni dei prodotti tipici. La 27esima edizione della manifestazione organizzata dal comune di San Pietro Avellana rientra nell'ambito degli eventi promossi dalla regione. Ma andiamo invece adesso a vedere le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e inviale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Ampi spazi di cielo sereno e temperature emiti oggi su Molise e Abruzzo. Valori climatici odierni compresi tra i 14 gradi la minima di Zernia fino ai 26 gradi di Campobasso per il Molise e dai 15 dell'Aquila fino alla massima di 25 a Pescara per l'Abruzzo. Ventilazione debole settentrionale, poco mosso il medio adriatico. Domattina sulle due regioni è previsto ancora molto sole e valori atmosferici oltre la media del periodo, correnti di direzione variabile. T.L.T. in rete Vivi con noi le emozioni dei campionati di Serie D, eccellenza e promozione. Risultati contributi dai campi e interviste ai protagonisti. T.L.T. in rete ogni domenica dopo le 22.00 e in replica il lunedì alle 15.30. Il Termoli rimane in fondo alla classifica del raggruppamento F della Serie D ma mostra segnali incoraggianti da Fano un pareggio in sperato alla vigilia per l'11 del tecnico Raffaele Esposito. M. Mosconi è arrivato un pareggio contro il Termoli, avevate giocato un buon primo tempo, forse siete un po' calati nella ripresa. Sì, è stata una partita super giù equilibrata, ci siamo avuti qualche occasione in più il primo tempo da fargli male. Nell'unica disattenzione ci hanno fatto colpa, è stata sempre una partita super giù in equilibrio. Magari nel compito dell'azione noi abbiamo avuto un baglio clamoroso, come quello all'inizio Cozzani, che potremmo incanalare subito la partita. Magari ci hanno raggiunto troppo presto, però c'è stato l'infortunio che fa parte del calcio. Però va bene, dispiace per l'espulsione dei Siaroli, dobbiamo giocare sempre un attimino in emergenza. Però va bene, siamo soddisfatti, bisogna continuare, è normale. Vogliamo vincere, chi è che non vuole vincere. Però bisogna anche accettare il verdetto del campo quando i ragazzi danno tutto. Sono orgoglioso di allenarli e si continua. Molte assenze per la sua squadra, in particolare in avanti. Ha fatto bene Brunetti, una classe 2004, però forse serviva qualcosa di più. Giochiamo con due ragazzi presenti nel settore giornale nostro, 2004-2003 hanno dato una botta, sono stati pericolosi, hanno fatto il massimo. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto. Però è normale, chi è che non piacerebbe giocare sempre con la formazione tipo, con tutti i giocatori. Però noi siamo 20 fratelli, chi gioca gioca, e speriamo di recuperare qualcuno anche in prospettione futura, perché ci aspettano due partite complicate. Noi per l'ennesima volta veniamo ad affrontare la capolista. Domenica scorsa siamo andati ad Avezzano, oggi venivamo in casa vostra, qui a Fano, un ambiente molto molto caldo, è difficile, è difficile. Quindi ci prendiamo questo punto, siamo soddisfatti, anche se poi alla fine abbiamo cercato anche di portare a casa i tre punti, non ci siamo riusciti, però abbiamo sofferto i primi 20 minuti, dove poi voi ci venivate a prendere altissimi, non ci facevate giocare. Quello, diciamo, è la nostra forza, tra virgolette, nel senso gioco dal basso, riuscire a rompere la prima pressione per poi attaccare la profondità. Non ce l'avete permesso nei primi 20 minuti, poi dopo siamo venuti fuori, alla distanza, abbiamo preso le misure, la squadra ha reagito, cosa molto importante, segno che la squadra è viva. Poi alla fine abbiamo cercato di vincere, non ci siamo riusciti, ma ci prendiamo questo punto e guardiamo avanti con positività. Nel calcio di Serie D, il Matese tra le muramiche ha avuto ragione, della Vastese con una rete per tempo, la squadra casertana con i tre punti si rimette in carreggiata. Al Ferrante si sfidano FC Matese e Vastese, pronti via, si comincia, inizia a rotolare il pallone, va esposito col destro, palo clamoroso, per Ricciardo, ancora col mancino Ricciardo, palla per Sorrentino che stacca! Sauele, Sorrentino, porta in vantaggio il Matese. Sul suo piede forte punta l'avversario, esposito ancora una volta, entra col mancino, ancora una volta palo. Parte il traversone sul secondo palo e c'è questo tentativo. Si è imbucato Salatino, ecco perché prende la sfera, entra nel rigore Salatino, col mancino a sterza, a rimorchio, esposito! 2-0 Matese! Eccola la quinta marcatura per il fantasista con la maglia numero 10 dell'FC Matese. Gira con Gomez che va col mancino a cercare Di Nardo che sfiora di testa, miracolo di Palombo sul secondo palo. Questo corner parla sul secondo palo, arriva alla conclusione ancora una volta. Si deve superare Palombo con questo paratone. Poi da terra provare a giocarla ancora una volta. Serdi Rimpali, si gioca in un fazzoletto di campo, Palombo in due tempi. Alla conclusione, arriva ora, non respinge come può del giudice, poi Sacco in due tempi del giudice. E termina qui il match, il Matese. Fa 3-3, e capitolata anche la Vastese, decidono le reti di Sorrentino e Vittorio Esposito. Domani alle 18 la Fondazione Molise Cultura di Campobasso verrà festeggiato il settantesimo anniversario della sezione locale dell'Associazione Arbitri. Calcio aver compiuto 70 anni di vita arbitrale rappresenta un rapporto importante per l'attestazione dei valori umani e sportivi che va oltre il momento celebrativo quest'anno nell'organico degli assistenti nella Commissione Arbitri Nazionali Serie A e B. Il Molise avrà il piacere in campo di vedere Antonio Severino della sezione di Campobasso. Nella pallavolo maschile di Serie B la determinazione mentale e attenzione tecnica portano la Spec Devils Campobasso a vincere a Roma 3-1 contro la Lazio lo scorso anno finalista a play-off per l'accesso in A3. 25-16, 19-25, 25-21 e 25-20 parziali set in favore dei molisani del tecnico Mariano Maniscalco. Sabato 29 alle 18 invece alla palestra dell'Istituto Montini del Capoluogo Molisano arriverà il Genzano un'altra pretendente al salto di categoria. Gli atleti di kickboxing del Cusso Molise sono stati impegnati nel campionato regionale Lazio Molise a Roma si sono fatti rispettare il Master Marco Oriente i più giovani Oleksander Pucas e Gabriele Ciccotelli quanto fatto dei tre atleti Cussini conferma che il lavoro svolto nel tempo comincia a dare i frutti sperati e con questa notizia è tutto termina qui l'edizione del giorno del telegiornale di TLT io come sempre vi ringrazio e vi lascio alla nostra programmazione arrivederci shout out to Grazie a tutti